E poi ci sono sempre le sue lampade. Questa lampada, quello che io sostengo è che se tu guardi dall'alto la basur qui della E63, è esattamente la proiezione, è la soglia della chiesa di San Nazaro. Sì. No? Esatto, sì. Vero? È lei. È lei. E quindi quello che io, anche quello se vuoi, se non so, lì sono due curve invece di uno. Comunque quella forma si ripete sempre. L'altra forma archetipica, io le chiamo queste forme archetipiche perché si ripetono, è questa veranda. Sì. Questa invece è identica alla casa Miggiano. L'entrata della casa Miggiano tra i due corpi è questo tale quale, è questa forma.